Carissimi, Cristo è risorto, anzi, Cristo è il risorto, nel quale si decide il presente e il futuro della storia. È l'alba del primo giorno dopo il riposo del sabato. La lieta notizia, sconcertante e inattesa, come l'ampo guizza da cuore a cuore. Dall'angelo, alle donne, ai discepoli, all'umanità intera, le generazioni la consegnano intatta alle generazioni, i secoli e i secoli, i paesi e i paesi sino a noi. Non dobbiamo più temere, il Signore è sempre con noi. Celebriamo dunque la festa aprendo l'animo a Cristo risuscitato, perché ci rinnovi e infonda la linfa vitale della vita divina. L'annuncio della Pasqua si espanda nel mondo militare con il gioioso canto dell'Alleluia.